Sì, è stata un'esperienza bellissima, una partita molto matura da parte nostra, però adesso l'abbiamo già dimenticata, ci dobbiamo concentrare su quello che ci aspetta domani e dobbiamo, secondo me, concentrarci su quello che possiamo controllare noi, quindi a dare il 100% e a non farci distrarre da fattori esterni al campo e dobbiamo semplicemente essere noi stessi perché è grazie a questo, al fatto che, alla palamano che stiamo facendo, che siamo arrivati a giocarci questa opportunità. Se uno ci pensa, noi siamo qua perché facciamo quello che sappiamo fare bene e cerchiamo di farlo al 100%, siamo qua perché abbiamo dei giocatori che sono fortissimi e dobbiamo cercare semplicemente di essere noi stessi e ricordarcelo nei momenti difficili della partita perché sicuramente ci saranno, ma in questo modo ritorneremo in carreggiata e potremmo raggiungere quello che secondo me ci meritiamo. Questa volta ancora di più sentiamo veramente l'appoggio dell'Italia e delle persone che ci vogliono bene, che ci hanno sempre sostenuto, che sono tante e veramente sembrano frasi fatte, ma è una forza in più che ci aiuterà. Grazie a tutti!